Chi l'ha fatta l'aria che respiriamo? Noi! E la carta dei giornali, dei libri, degli scatoloni e quella per fare gli origami? Noi! E la legna per il fuoco e il carbone per le macchine a vapore? Noi! E chi l'ha fatta il legno dei violini, delle chitarre, dei contrabbassi? Noi! E chi l'ha dato il ciocco a Mastro Ciliegia che poi l'ha dato a Geppetto per fare Pinocchio? Noi! Bravo Pino! E i frutti? I frutti da tentazione di Adamoedeva, le mele di Cezanne oppure i grappoli di Bacco? E i colori? Chi l'ha fatta i pigmenti per rendere il mondo così straordinariamente bello? Noi! In cambio di tutto questo cosa vi danno? Un po' d'acqua, un po' di concime, altro che acqua vi dovrebbero dare dello champagne! Vi dovrebbero salutare e ringraziare ogni santo giorno per tutto quello che date, l'atmosfera, la musica, i mobili, il fuoco, l'ombra ma anche e soprattutto il bastone per accompagnare i più deboli che non riescono a camminare! E allora forza, partiamo, andiamo a cambiare il mondo! Perché dobbiamo portare Pistoia nel mondo e il mondo a Pistoia tenendo le radici ben piantate nel terreno e i sogni che volano lontano! Perché the future is green!